Franceschino Barazzutti, i comitati sono ridiscesi in piazza, in strada qui davanti alla centrale Siot contro questo progetto che non piace e continuerebbe a danneggiare il territorio. Più che noi, più che i comitati sono sesi in piazza adesso la popolazione e tutti i sindaci della Carnia che vedo qui numerosi. Quindi è semplice la questione, questa stazione di pompaggio sin da quando è nata negli anni 60 ha funzionato attingendo la corrente elettrica da questa centrale idroelettrica di Son Plago che ha tre turbine e può produrre tanta energia da poter fulminare tutto il Friuli e tutta la Carnia. Non si capisce perché la Siot a un certo punto dica io non attingo più la corrente elettrica da questa centrale idroelettrica ma voglio produrla in proprio. Con che cosa la produce? Produciando metano, cioè inquinamento con due generatori di elettricità e di calore per riscaldare il petrolio. E per non si capisce per cosa?